Continua a migliorare la situazione per quanto riguarda la presenza del coronavirus in Sicilia. Nella settimana dal 23 gennaio al 29 si è registrato nell'isolo un netto calo delle nuove infezioni, in linea con la tendenza nel territorio nazionale. La percentuale di positive è in calo del 36,28%, con un parametro di 64 casi ogni 100.000 abitanti. Il tasso di nuovi positivi più alto in Sicilia si è registrato nelle province di Palermo, Siracusa e Agrigento. Le fasce di età maggiormente a rischio, secondo l'ultimo bollettino settimanale a cura dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, rimangono sempre quelle tra i 70 e i 90 anni. In base a quanto riportato nel documento, le nuove ospedalizzazioni sono in lieve diminuzione. Nella stessa settimana, più della metà dei pazienti positivi in ospedale è risultata non vaccinata. L'epidemia rimane in una fase delicata, con un livello ancora significativo di diffusione virale, ma con una ricaduta sulle nuove ospedalizzazioni più contenute rispetto ai periodi precedenti. Per quanto riguarda la campagna vaccinale in Sicilia, i dati aggiornati al 31 gennaio ci dicono che i bambini vaccinati con almeno una dose sono il 23,79%, mentre sono il 20,45% quelli vaccinati con ciclo primario completato. Le persone che hanno completato il ciclo primario sono l'89,59%. I vaccinati con la dose booster sono il 72,39% degli aventi diritto. In Sicilia, infine, sono state effettuate complessivamente 239.045 somministrazioni di quarta dose, di cui 210.537 a soggetti over 60. Le quinte dosi somministrate risultano complessivamente 8.576.